Abbiamo pensato di fare agricoltura biologica perché sono convinto che sarà l'unica agricoltura che salverà il mondo dalla fame. Mi chiamo Retto Raselli e faccio il contadino le prese in Val Poschiavo. Sono nato in Val Poschiavo in una casa contadina dove viviamo in tre generazioni, i miei nonni, i genitori, i due e i quattro figli. Una nostra bisnonna è rimasta vedova di un signore che era rientrato dall'Australia e aveva costruito con suo fratello l'edificio storico. Per necessità ha aperto un bar, un piccolo bar che è rimasto nel tempo. Non era ancora comunque un'attività di turismo ma era un bar per gli inviandanti dove si offrivano le cose del posto. Questo è il musicale anche bello. Sì, si sa che è un po' molto bello. Eh sì, mi piacerebbe. Il nostro ristorante forse non era ancora un albergo, è stata anche la nostra stua diciamo, quindi spesso volentieri si seguivano le discussioni al tavolo rotondo, l'unica televisione della casa era il bar. Non c'era riscaldamento, era calda la cucina, la stua e la stalla. Ogni casa era una piccola azienda agricola e ogni famiglia aveva un po' di terreno, ma non per il commercio ma per il fabbisogno della famiglia. Avevamo circa una trentina di pecore 25-30 e la mattina a turno una settimana mio fratello Oreto e una settimana io perché gli altri fratelli erano piccoli ancora. Si andava prima di andare a scuola a 7 e mezza si andava in stalla. Ah che dita da bella, questa è quella scolina, quanto è qualche cassero. Questa è tesserissima. Anche la qualche cassero ma l'asilo, senza fini. Ti appassionano, ti piacciono o le odi? È un po' un classico. A me sono sempre piaciute anche se naturalmente ci davano tanto da fare perché bisognava curarle, magari prima di andare a scuola, dopo scuola, bisognava fare il fieno. Le bestie erano il suo, non so come posso dire, ma il suo gioco quasi. E doveva anche lavorare, nel senso anche quando era piccolo doveva anche aiutare. Dunque penso che è una cosa che col tempo ti entra dentro. Mentre Reto si è un po' più dedicato a quella che era l'azienda agricola, da parte mia mi sono dedicato a quello che era l'azienda alberghiera. Negli anni 60-70 c'è stato uno sviluppo importante turistico qui alle Prese. Il grosso sviluppo l'ha portato chiaramente la ferrovia del Berlino, la ferrovia retica. Abbiamo la fortuna che è una valle di passaggio e non una val chiusa. Dunque sia le novità che le gente ci passano portano un po' di nuovo sangue. In questo senso è una valle che si è sviluppata in modo positivo. Sono stato praticamente il primo che ha ricominciato a fare contadino in modo un po' professionale, diciamo così. E questa è stata un po' la scelta strategica, diciamo così. Quando gli altri smettivano io ho iniziato. La prima cosa da fare era costruire una nuova stalla. Questo è stato il primo obiettivo che si è realizzato poi nell'83. Nell'83 si sono usciti dalla casa paterna che oggi è all'albergo. Così abbiamo piantato, diciamo così, la mia attività fuori paese. È stata forse anche una delle prime stalle costruite fuori paese come si usa oggi. E lì ho potuto poi svilupparsi in modo importante, diciamo così, per la nostra regione. Il fatto che poi questa azienda faccia una produzione quasi a 360 gradi per noi è fondamentale. Mi ritengo un privilegiato a poter contare su un'attività agraria, biologica, diretta, da dove andiamo a acquisire i nostri prodotti. La nostra azienda agricola si occupa di due settori principali. Uno è quello tradizionale, che è l'allamento del bestiame. Infatti abbiamo le mucche, le mucche grigie, dove facciamo la linea mucca vitello, che è stata introdotta da una ventina di anni. Abbiamo le capre, che facciamo il caprettone. Abbiamo le galline per le uova. Abbiamo i maiali, che una parte di questi prodotti vengono usati per fare un prodotto certificato slow food. L'altra parte si fanno le mazziglie, abbiamo gli asini, cavalli, gatto, dunque gli animali che si dovrebbero trovare in un'azienda o che una volta si trovavano in un'azienda agricola. L'altra parte, quella innovativa, è la coltivazione delle erbe medicinali, che è un'attività che abbiamo iniziato nel 1981. Abbiamo piantato le prime piante, proprio in questi pensamenti qui vicino. La situazione si è evoluta. Nell'83 abbiamo creato la cooperativa, che esiste tutt'ora, della quale sono il presidente, la Coperme, cooperativa produttori erbe medicinali Malpo Schiavo. Poi l'idea si è poi propagata un po' in Svizzera. Nell'85 abbiamo creato la Monterbe, di cui sono il presidente da più di vent'anni. Così che la coltivazione a livello di Svizzero è coordinata. Cerchiamo di fare una produzione mirata, a base ai nostri bisogni, di non esagerare, così che la parte economica torni poi anche a essere quello che deve essere. Oggi forse è banale, ma se pensiamo agli anni Ottanti, chi parlava di ecologia era bollato di diavolismo. Anche come agricoltore ti senti responsabile del terreno che coltivi. Abbiamo cercato di sviluppare questa attività in modo ecologico. La coltivazione del grano in valle ha una tradizione, infatti fino agli anni Sessanta si coltivavano diversi ettari di granagli. Poi è quasi sparita e pochi anni fa abbiamo costituito una cooperativa, una cooperativa di campicoltura, di cui sono il presidente. E lo scopo principale è far sì che il sapere non vada perso. Per me la tradizione vuol dire coltivare i terreni in modo corretto e trattare il bestiame o allevare il bestiame in modo corretto. E oggi si fa con i mezzi che la modernità, che sia la meccanica, sia le conoscenze ti mettono a disposizione. L'erboristeria è una ditta a sé stante che fa la trasformazione, il confezionamento e la vendita. Una volta che il prodotto è stato raccolto, poi lì entra la nuova tecnologia, entra la meccanizzazione e lì oggigiorno abbiamo un'attrezzatura all'avanguardia, sia per la raccolta, sia per l'essicazione, la trasformazione, il confezionamento. Questi sono macchinari moderni, sono macchinari complicati che ti danno la possibilità di portare poi un prodotto sul mercato, confezionato, finito, come si usa oggi. Dunque i nostri acquirenti principali sono da sempre la ricola, la famosa caramella svizzera e poi abbiamo sviluppato delle tisane che vendiamo in modo particolare alla Coop. abbiamo due tipi di tisane, diciamo così, una confezionata in porzioni monofiltro e la seconda confezionata in piramidi e sicuramente Coop per noi è l'acquirente più importante. parallelamente a Coop abbiamo poi sviluppato un altro mercato, sia regionale, sia con la pagina internet, sia voce a voce, dove funziona bene. Negli ultimi tempi, negli ultimi anni, abbiamo iniziato a coltivare altre spese di erbe e così abbiamo creato dei condimenti, dei insaporitori, che vendiamo abbastanza bene. Abbiamo cominciato a fare i fiori, che funzionano bene, che anche aumentano in un certo senso i limiti del prodotto che proponiamo. Mi dicono, ah, se è quello dei tè. Io non dico, no, io sono quello dell'albergo, ma quello dei tè è comunque un fratello perché poter offrire tutti i suoi prodotti direttamente qui in albergo è un richiamo pubblicitario, se vogliamo chiamarlo così, importante. Il terreno vive, bisogna trattarlo, bisogna curarlo bene, non maltrattarlo. Altrimenti, come tutti, si ribella, non produce come dovrebbe fare e questo forse per noi non sarà un problema, per le generazioni future, se non portiamo rispetto al suolo sarà una grossa rugna. A me piace tantissimo, per esempio, quando ho finito un prato che sia ben tagliato, che sembra coltivato con passione, coltivato bene. Quando abbiamo finito di falciare un monte, è un piacere dargli un'occhiata come è finito bene, come... che vedi la cura del territorio. Qui sono nato, qui sono cresciuto, qui ho passato una vita, mi sembra un posto bellissimo per vivere, ho costruito la mia attività agricola, ho costruito la mia famiglia, ho qui la mia famiglia, dunque, cioè, è un posto mezzo paradiso, diciamo così, speriamo che se il paradiso c'è sia almeno così bello. La mia famiglia è un'occhiata, non è un'occhiata, non è un'occhiata.